Un nuovo incidente mortale sul lavoro è avvenuto ieri sera nel piazzale dello stabilimento Amadori di Mosciano Sant'Angelo. La vittima, Gaetano Domenico Mastroieni, 66enne siciliano ma residente a Forlimpopoli, stava attraversando il piazzale quando è stato travolto e ucciso da un auto articolato in manovra condotto da un collega della ditta esterna di autotrasporti dove lavorava. L'incidente è avvenuto alle 22 circa di ieri sera, proprio mentre la vittima stava completando le procedure di consegna nella zona del piazzale Amadori adibita a carico e scarico merci. Dopo l'incidente, nonostante i soccorsi prestati immediatamente dai colleghi, non c'è stato nulla da fare. Per rimuovere la salma da sotto il pesante auto articolato è stato necessario attendere il soccorso dei vigili del fuoco. L'incidente apre l'ennesima inchiesta sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per ricostruire i fatti e accertare le responsabilità dell'accaduto. Messaggi di cordoglio sono giunti immediatamente sia dall'azienda Amadori sia dalla CGL locale.